Siamo a Roma nel 600. I pittori, tutti maschi, abbondano. Il segreto dell'affermazione di questa straordinaria pittoressa è stato il suo carattere. Lei era Artemisia Gentilischi. Sua contemporanea, un'altra donna dal carattere altrettanto forte e determinato. Il suo nome era sulla bocca di tutti. Perché in qualche modo tutti avevano bisogno o avevano paura di quella donna. Lei era donna Olimpia.